E' l'artiglieria. E' tutto perduto. A nord di Lussi sono quasi al ponte di Weidendammer, a est a Luskarten. A ovest al Tirgarten, cioè a tre-quattrocento metri dalla cancelleria. Non capitolerò mai. Preferisco piantarmi una pallottola in testa. Il Führer ha perso ogni contatto con la realtà. La imploro di lasciare Berglino. Non possiamo lasciarlo da solo. Per quello che lo attende non ha bisogno di nessuno. Ma il signor Goebbels e sua moglie restano qui. Anche i loro bambini. Anche i bambini. Non so se riceverai mai questa lettera. Il nostro meraviglioso ideale è crollato. Nel mondo che verrà, dopo il Führer e il nazionalsocialismo, non varrà più la pena di vivere. Per questo ho portato con me anche i bambini. Bevi, bevi! Dobbiamo andarcene da Berlino. Convincelo tu. Ma non ci sarebbe più distribuzione di viveri alla popolazione. Anne! Ma non l'avete ancora capito che la guerra è perduta? Che è finita! Perché vuole continuare a vivere? E lei? Perché ci tiene tanto a morire. Devo dettarle subito il mio testamento. Ma sto battendo il testamento del Führer. Che cosa ne sarà di noi? Non ce la faccio più. La nostra fine può giungere a qualunque ora. Lo stesso Führer non crede più alla possibilità di una svolta favorevole. Tua sorella. Fugga da qui, me lo prometta. Il popolo ha scelto da solo il suo destino. E adesso deve offrirsi al taglio della gola. Pagheranno negando del loro stesso sangue! Già da domani milioni di persone mi malediranno. Ma è questo che ha voluto il destino. Il popolo ha scelto da solo il nostro sangue.